Amici della Big Chaos Family siamo alle Olandia andiamo a vedere Bing Le Olandia esiste davvero ed è così che entrando alle Olandia siamo rimasti incuriositi da quel che diceva il Tarenino Thomas e tra un pirata e l'altro è arrivati da Bing che ho potuto vedere l'emozione sul volto di Jack Mi sono nascosto! Vieni a cercarmi! Ragazzi l'ho capito! E' vero questo di così tanto impegnato! Dopo aver ballato come una pazza scatenata Elsa ha fatto un giro sulla giossa con la sua nuova amica Emma abbiamo visto la casa di Masha l'ambulanza dei lupi e Jack ha ammirato questi bellissimi fiori poi ha bussato alla casa di Masha e Orso ma non ha risposto nessuno quindi non contento ha deciso di arrampicarsi sulla statua del nemico di Orso mentre Elsa faceva sempre più amicizia con Emma e via a fare un giro sul Tarenino Thomas mentre ignari bambini si bagnavano sotto la fontana Nessuno vuole stare con Aristoteles! E dopo un giro su questo splendido Tarenino abbiamo fatto un'ora di coda per questa giostra Donna Carola molto felice ma Elsa è riuscita a sparare l'acqua sui Playmobil abbiamo visto Bluey Jack Jack si è addormentato e poi ho lasciato tutti su queste belle barche mentre scorreva la parata di tutti i personaggi a quel punto siamo andati a fare un giro a Minitalia eccoci qui sul ponte sullo stretto voluto da Salvini Elsa ha deciso di fare selfie con tutte le statue abbiamo ammirato le bellezze del nostro paese un uomo apertamente distrutto che fin troppe volte diamo troppo per scontate alle volte ci dimentichiamo quanto è bella l'Italia quanto sono belle le sue ricchezze e quanto è bello essere italiani quello penso conte di Cavorne sarà bella l'Italia ma casa e mi vado via vado lontan sono vent'anni che sto a Torino a fare gni 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 ti obbligano a passare dal negozio dei souvenir per uscire furbi chiudiamo le Olandia con la bancarella all'uscita che vendeva i palloncini dei pigiamini a 12 euro scontati al 50 quindi 24 euro un palloncino ciao ciao